Un incontro a Villa Boselli che ha visto tutto il centro-destra unito intorno a Giovanni Totti, presidente, presidente di una Liguria e di un'amministrazione regionale che ha ben governato in questi cinque anni affrontando insieme, compatti, tanti problemi che abbiamo ereditato dai dieci anni di pessima amministrazione di sinistra ma che abbiamo affrontato con grande coraggio e determinazione. Un incontro positivo dove veramente tutto il centro-destra, tutta la coalizione si è voluta presentare unita e compatta perché mentre dall'altra parte si dividono e litigano il centro-destra lavora in maniera sinergica. Giovanni Totti è il leader di tutti, è il leader della coalizione di centro-destra e con lui ci apprestiamo a governare anche per i prossimi cinque anni, per continuare il lavoro svolto fino ad oggi e soprattutto per dare un futuro ad un territorio, quale quello della Liguria, che necessita di interventi importanti soprattutto qui a Ponente dove il tema infrastruttura è sempre all'ordine del giorno. Tante le risorse che sono arrivate in provincia d'Imperia come forse non era mai accaduto prima ma il lavoro deve continuare e deve essere fatto con serietà, senso di responsabilità e voglia di fare quello che appartiene a noi.